Susegana. Il sindaco Vincenza Scarpa ha comunicato che l'ordinanza di senso unico in via secondaria stazione a Ponte della Priula è sospesa nell'attesa di incontrare i residenti e valutare le criticità emergenti. La riunione si terrà in settembre per consentire la presenza del maggior numero di abitanti della via alla presenza del comandante della polizia locale. Nell'attesa dell'incontro e relative verifiche la viabilità non subirà variazioni. È previsto invece il posizionamento di un dosso supplementare proprio in tale via per evitare velocità troppo elevate.